Ciao a tutti ragazze, sono qui con un altro video questo stavolta sarà un video outfit non troppo sportivo e non troppo elegante sulla via di mezzo come accessori osato questo anellino di qui rosa per come vedete con il contorno dell'anello color oro poi il normale anello di qui rosario che vi ho fatto vedere nel video precedente e poi i soliti braccialetti che uso come vedete come orecchini vado ad utilizzare questi di qui molto molto carini e semplici che sono così col cavallino e colore argento davvero molto molto belli poi come acconciatura niente di che ho fatto una coda per essere un po' più sbarazzina anche perché qui nel mio paese dove abito io fa ancora caldo devo dire ci sono almeno 30 gradi quindi non mi va di tenere i capelli sciolti e niente ora passiamo per questo outfit ho voluto utilizzare questa camicia per come vedete che praticamente è bianca diciamo beige bianco sporco con questi ferlini beige arancioni e verdi molto molto carina e l'ho voluta mettere dentro questo pantalone però solo davanti invece per quanto riguarda dietro l'ho lasciata lunga e questa di qui l'ho acquistata da Calliope è un negozio in franchising comunque penso che ci sarà anche nel vostro paese e poi ho abbinato questi pantaloni beige molto molto carini molto stretti che l'ho presi alla Benetton e li ho pagati scontati 15 euro e hanno anche questa fascia qui e poi i titoli sono senza tasche normali e niente per quanto riguarda le scarpe ho utilizzato questa semplicissima Hogan blu infatti come vedete è molto molto semplice infatti per come vedete sono strettissimi i pantaloni invece come borsa sono andata a utilizzare questa di qui blu beige della Piblos che è molto molto capinta è molto comoda per come vedete e niente ragazze questo è il look finale spero tanto che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e niente adesso vi lascio le goto un nuovo un bacio ciao il amor me quema la musica suena la noche di cristalli bellezza il cielo